Tu sei Tunisino Ante Takounu Tunisi Tu non sei Tunisino Ante Le Takounu Tunisi Tu sei Tunisino Ante Tunisi Tu non sei Tunisino Ante Le Takounu Tunisi Silvio E Italiano Silvio E Itali Silvio Non E Italiano Silvio Non E Itali Silvio E Italiano Silvio E Itali Silvio Non E Italiano Silvio Leisa E Itali Anna E Felice Anna Saida Anna Non E Felice Anna Leisa B Saida Anna E Felice Anna Saida Anna non è felice, 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 Fatima 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 non è lui non è un postino, 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 lui non è un postino Voi siete nostri amici? Antum teconuna aczdiqai? Loro sono i tuoi genitori? Hum yacununa auliāk. Grazie per la visione!